Toro e Capricorno, una buona combinazione fra due segni di terra, entrambi sono responsabili e razionali e hanno un reciproco desiderio per il successo e le cose materiali. Venere e Saturno si amalgamano molto bene insieme, emozionalmente parlando. Entrambi, inoltre, hanno bisogno di essere adulati e incoraggiati, anche se il Toro sarà quello che dovrà assumere il comando in questa direzione. I caldi raggi di Venere riusciranno a scaldare l'imperturbabile Capricorno, all'inizio sempre un po' freddo e riservato, tuttavia ci sarà il bisogno di innescare uno spiraglio di divertimento quando le cose diventeranno troppo serie. Grazie per la visione!